Andrea Giardina grande storico autore di numerosi manuali scolastici di successo ha ideato e realizzato la nuova storia il nuovo manuale per il biennio che integra storia e geografia la nuova storia è uno strumento didattico di nuova generazione progettato per rendere facile operativo e appassionante lo studio della storia e della geografia in classe e a casa è essenziale nei contenuti semplice nella forma e ricco di apparati che organizzano visivamente eventi e dati o li riassumono in schemi ragionati il manuale è costruito in modo che lo studente non debba voltare pagina per concludere la lettura di un argomento si compone infatti di unità di apprendimento brevi racchiuse in una doppia pagina curiosità e attenzione degli studenti sono stimolate da ampie illustrazioni dotate di approfondite didascalie che raccontano le civiltà del passato l'agile esposizione manualistica è integrata da apparati che illustrano o completano i contenuti agevolando la memorizzazione schemi e tabelle organizzano a colpo d'occhio dati eventi o processi disegni carte immagini illustrano gli aspetti salienti delle culture antiche e del medioevo la spiegazione del lessico notevole o di più difficile comprensione è integrata nel testo la parola è evidenziata in giallo e il suo significato sottolineato gli argomenti di economia scienza tecnica sono affrontati con sistematicità singole unità di apprendimento equivalenti a paragrafi che evidenziano continuità o discontinuità di rilievo fra passato e presente le unità di apprendimento di storia geografia cittadinanza sono dedicate ai temi della convivenza civile e ai fondamenti della costituzione italiana alla luce delle grandi questioni poste oggi dall'agire umano su scala planetaria l'atlante dei popoli illustra le caratteristiche fondamentali delle principali civiltà del passato costruendo un percorso per immagini che ribalta il rapporto tra documento iconografico e testo opere d'arte significative reperti archeologici disegni ricostruttivi o piante di città diventano racconto con il supporto di testi esplicativi essenziali il laboratorio dello storico propone una selezione di fonti antiche e di attività attorno ad un tema di particolare rilievo altri mondi altre civiltà è dedicata allo svolgimento delle grandi culture fiorite in africa asia oceania e nelle americhe ogni capitolo è chiuso da in breve efficace sintesi con esercizi per la verifica e il consolidamento delle conoscenze alla fine di ogni parte capitoli di geografia dedicati alla descrizione fisica e politica di stati e continenti e alle grandi questioni contemporanee sollevate dalla relazione tra l'uomo e l'ambiente completano i capitoli di geografia attività per la verifica e il consolidamento delle conoscenze grazie ad una struttura agile e dinamica graficamente accattivante la nuova storia è un libro da sfogliare soffermandosi di figura in figura per scoprire i segreti degli oggetti delle invenzioni e delle opere d'arte realizzate nella storia dell'umanità contenuti digitali integrativi per l'approfondimento lo studio e la didattica interattiva in classe e a casa sono disponibili sul sito www.laterzalibro più internet.it tra i materiali integrativi il libro digitale interattivo essere cittadini lezioni di cittadinanza e costituzione tutti i contenuti digitali integrativi saranno trasferibili e integrabili nell'aula digitale piattaforma multimediale la terza per sviluppare la didattica in classe e a casa un servizio esclusivo per chi ha scelto la qualità la terza nella scuola e per la scuola la nuova storia essenziale flessibile la prima storia per il bienio di nuova generazione